Le provocazioni non mancano, dice Picciolini, e adesso naturalmente le indirizzeremo ai diretti interessati, quindi ai presidenti delle autorità. Ti avrei subito, per un primo giro di interviste, Pier Paolo Bortoni, presidente dell'autorità per l'energia e il gas, buongiorno presidente, benvenuto, e Antonello Suolo, presidente dell'autorità garante per la protezione della Prada, grazie per i dati personalizzati, eccoci qua, grazie, il posto di intervento, la tante presidente di Tuzella, vi salutiamo, buongiorno, siamo quasi tutti, eccoci qua, grazie, sistemiamo la gente, però non sono rappresentati, quindi sapete, siete da pieno intatti, qua dobbiamo cambiare sala, cioè l'anno prossimo, perché... No, è singolare, comunque, non so se questa affluenza è dovuta, mi chiamo, mi hanno invitato, o perché i temi sono naturalmente molto interessanti, perché c'è un largo interesse che ci fa piacere intorno al tema della tutela dei consumatori. Presidente Dio Bortoni, cominciò subito con lei, alla mia sinistra, se vuole dire subito un commento rispetto alle provocazioni, come ha detto Picciolini, che il professor Bassan ha lanciato, se vuole anche c'è il tema della necessità di armonizzare le tutele al proprio interno. Tuttavia, in questo ambito di fare l'autorità garante per l'energia e il gas nel nostro paese, poi parleremo naturalmente anche di tutti i lavori che fate per la tutela dei consumatori, perché voi siete molto attivi, multate anche per questo battito, e soprattutto state andando appunto in una direzione di sempre maggior trasparenza dell'operatore e dell'operatore e appunto nei confronti dei consumatori. Il primo commento sulla relazione di Bassan. Buongiorno a tutti, io mi scuso, ho chiesto a Barbara Rosciani di parlare per primo, perché poi devo lasciare il consumer forum e andare per l'undice e mezza a un consumer forum, che sono i vostri colleghi, i vostri cugini, cioè quelli diciamo dei piccoli produttori di energia elettrica, quindi mi scuso subito sul ragazzo. Anche quest'anno, come ogni anno, sta nel sesto rapporto con il consumerismo 2013, ci offre tanti spunti di riflessione anche per la mia autorità. Nella lettura anticipata di esso ho avuto la possibilità di farlo, è un anno che ogni diciamo componente di autori ci vada a cercare le positività, però credo che al di là di questo, come dire, di questo aspetto umano, penso lo facciano tutti i miei colleghi, è opportuno, è più opportuno, è più saggio invece fermarsi, soffermarsi, indulgere sui punti di criticità, di stimolo a far meglio di ogni singola autorità. Mi toccherò alcuni, per me, importanti, però non tralasciando la domanda a tutti i miei altri. Il primo, non ci siamo messi d'accordo col professor Hassan, è proprio il primo punto che volevo, che ho tenuto nel rapporto 2013, che volevo sottolineare dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, è questa esigenza di coesione tra regolatori, quindi tra regolatori nazionali. Infatti, la tavola rotonda che si intitola regolazione al tempo della crisi, io l'avrei titolata semplicemente nel termine oratura, regolazioni al tempo della crisi, nel senso che c'è questa esigenza, che non è solo estetica, di coesione. Adesso parlare di unità dei regolatori nazionali mi sembra un po' forte perché si moltificherebbero le specificità, le peculiarità dei singoli settori, è stato detto anche prima, le storie, i ritaggi diversi, i poteri diversi. Però c'è questa esigenza di coesione tra le regolazioni ancora più sentita in mezzo in fili. Quindi questo vuol dire il mio commento al piccolo della tavola rotonda. Non ci siamo messi d'accordo, tant'è che in tempi non sospetti nella relazione nostra annuale di giugno 2013, fine giugno, in Parlamento abbiamo più volte o abbiamo insistito su questo famoso luogo comune, lo chiamo così in maniera sostanzialista, luogo comune di collaborazione tra i regolatori nazionali. Ovviamente non mi dimentico del marito che non è regolatore ma che è sicuramente un fratello di collaborazione, che è l'antitrust, quindi un luogo comune in cui possa avere luogo questa collaborazione tra regolatori o comunque allargata anche a istituzioni che hanno a cuore la tutela del consumatore e la tutela della l'incorrenza. Un luogo comune che sia finalizzato a che cosa? E qui tocco uno dei punti del professor D'Arcettino di Bassano. Finalizzato a sviluppare un minimo comune multiplo di best practice tra i regolatori nei diversi settori su quattro punti. Il primo è quello del professor D'Arcettino, per arrivare a focalizzare meglio e in maniera più unitaria la tutela del consumatore, consumatore che, come voi lo sapete meglio di me, è per definizione un soggetto multisettoriale, cioè non si capisce come mai un consumatore che appunto utilizza degli servizi a largo spettro che deve essere poi raggiunto da una tutela del medesimo molto settoriale. C'è da essere una orizzontalità proprio perché il consumatore è multisettoriale. Quindi il primo punto, questo luogo comune dei regolatori più l'antitrust deve occuparsi di tutela del consumatore, facendo proprie best practice che possono venire dai diversi regolatori. Ma io aggiungo anche tre altri punti. Il primo è per trovare quelle politiche comuni, specialmente in tempi di crisi, poi dirò quello che stiamo facendo oggi, per l'attrazione e il finanziamento degli investimenti in momenti così difficili come quelli della crisi economica. Terzo punto, questo luogo comune, non dimentichiamolo, dovrebbe anche sviluppare e avere, come dire, concentrarsi su quelli che sono le cross-settoriale, cioè ci sono delle aree di regolazione tra settori, vi faccio due esempi. Le smart cities è un momento di, un oggetto, sono una serie di oggetti, ma è un momento di sovrapposizione di regolazione tra l'autorità delle ricomunicazioni e l'autorità dell'energia. La mobilità elettrica è un momento di sovrapposizione regolatoria tra l'autorità dei trasporti, che per la prima volta debutta quest'anno, quindi facciamo tanti auguri al Presidente Tamanzi e i suoi componenti e l'autorità per l'energia. E ultimo, ma secondo me più importante, momento di coesione regolatoria comune è quello dello sviluppo di un approccio europeo. Certo, insomma, molti di questi regolatori hanno delle norme genitrici europee, ma io dico di più, alcuni discendono proprio da delle norme istituitrici europee, altri che è nato prima come l'autorità per l'energia e poi comunque è stato adottato dalla normativa europea, quindi secondo il terzo pacchetto di energia hanno certamente individuato nelle autorità nazionali di regolazione tutta una serie di attribuzioni di stampo europeo per cercare di uniformare i loro. Quindi questo benvenga, ce l'abbiamo proposto in fase di relazione annuale, benvenga questo luogo comune, non mi spendo sulla forma giuridica che deve avere questo luogo comune, perché sono sicuro che qualunque cosa di cui mi avrà bruciata in termini di forma giuridica, però mi interessa la sostanza, questo contentore che abbia come obiettivo la collaborazione intersettoriale dei regolatori nazionali. E questo è anche quello che auspica il rapporto che è già stato detto. Io credo che se mai nascerà, da guardare il suo punto, se mai nascerà un luogo di collaborazione come quello che ho auspicato, io credo che anche poi l'interazione tra la materia di regolazione e il codice del consumo che ovviamente deve essere unico, applicato unicamente a tutti i settori, questa interazione tra la parte regolatoria e il suo enforcement e il codice del consumo non potrà altro che migliorare, proprio perché c'è una unitarietà di approccio e una visione a 360 gradi orizzontali intersettoriale. Un elemento che abbiamo introdotto noi, noi siamo arrivati nel 2011 e abbiamo iniziato la nostra consigliatura lì, purtroppo, comunque sfortunatamente nell'anno proprio della seconda ondata di crisi economica, finanziaria, che anche intaccava i detti sovrani in alcuni paesi dell'Unione Europea come il nostro. Sostanzialmente qui la crisi, sappiamo che cos'è, ma l'abbiamo toccata con mano anche nella regolazione e sostanzialmente abbiamo utilizzato un approccio che poggia le proprie basi su un principio fondamentale che credo sia uno strumento tipico da regolazione in tempo di crisi, cioè il principio della selettività nella regolazione. Cosa significa? In maniera molto semplice, significa concentrare le poche risorse che sono a disposizione in tempo di crisi, sto pensando a tutti i settori, a quello infrastrutturale, dei mercati, nella tutela del consumatore, concentrare le poche risorse laddove la funzione di interesse, scusate, la funzione di utilità, di interesse generale è più presente e più acuta. Sembra una banalità, probabilmente da dirsi è una banalità, ma vi garantisco che day by day, nell'attuazione della regolazione, se uno si focalizza su questo principio della selettività o comunque concentrare le proprie regole e le proprie risorse che si hanno laddove l'interesse generale è più pregnante e più presente, vi garantisco che questa attività operativa è di tutto rispetto perché si tratta di cambiare e di introdurre diverse riforme. Infatti, vado su due esempi, se ne sarebbero tanti, però due esempi che sono stati anche evocati nel rapporto delle riforme di tipo selettivo che abbiamo introdotto dal 2011 sino ad oggi sul gas, sulle riforme del gas che è sotto gli occhi di tutti, diciamo, in una pillola è stato vincente l'approccio di cercare di svecchiare, di modernizzare il nostro settore con la regolazione del mercato del gas, introducendo un segnale di prezzo, un mercato nuovo che segnalasse il valore del gas anche nel nostro paese indipendentemente dal valere dei contratti di lungo periodo che storicamente hanno caratterizzato 40 anni di storia del gas in questo paese. Questo è stato l'inizio, l'incipit della riforma e ha portato tutta una serie di benefici, per esempio, ha portato all'allineamento del prezzo del gas dell'Italia con il prezzo europeo, prezzo prevalente degli altri europei. Oggi è ancora così all'ingrosso, si è avuto un ribasso del 20% per quanto riguarda la commodity all'ingrosso che avete visto è stata ribaltata nel servizio di tutela del gas con un meno 7% da altri investimenti all'ottobre. Lo dico sempre, questo 7% non è uguale al 20% ma sono due percentuali su base diverse. Il 20% è il ribasso che si è avuto sul mercato all'ingrosso che è traslato sulla tariffa unicomprensiva, che non è solo commodity ma è anche onere di rete, fiscalità, eccetera, all'utente finale, al piccolo consumatore finale si traduce, se fatti conti, proprio in un 7%. Quindi questa riforma è già scesa verso il consumatore e lo ha beneficiato di questa cosa. Il secondo esempio è relativo, ci dà il rapporto alla regolazione dell'acqua, del servizio idrico. Noi qui siamo abbastanza neofiti, nel senso che è un anno e mezzo che ci è stata attribuita la regolazione del servizio idrico integrato. Un settore caratterizzato da una scarsità di investimenti pazzesca, molto peggiore, molto più intensa questa scarsità rispetto a quella dell'energia, un settore che anche in termini di qualità del servizio lascia molto desiderare, nel caso del nematico sono le perdite idriche lungo tutto la quell'autistica del nostro paese. E' stato citato lo scarso livello della qualità del servizio, anche in termini di carta dei servizi per i consumatori. Mi ricordo, faccio un parallelo agli albori dell'azione dell'autorità dell'energia. 15 anni fa nel settore, per esempio, della distribuzione elettrica, là esistevano 70 carte dei servizi, solo dell'energia, sto parlando dei momenti pre-realizzazione elettrica. Bene, la situazione dell'acqua è ancora peggio in termini di carta dei servizi e di sua applicazione. Che cosa stiamo facendo? Allora, premendo atto di questa situazione particolarmente grave, particolarmente critica, stiamo addirittura applicando una regolazione che noi chiamiamo asimmetrica, una regolazione aggressiva, d'assalto, in questo modo. Mentre nell'energia noi sostanzialmente abbiamo applicato una regolazione di tipo generale che prescindeva, che prescinde dalla singola realtà specifica, nel caso dell'acqua ci siamo resi conto che dobbiamo anche differenziare gli schemi regolatori, proprio in ragione del fatto che la frammentazione del settore, la criticità di alcune situazioni richiedono un'attenzione e quindi anche una regolazione particolare. Quindi abbiamo sviluppato un menu di quattro, non volendo esagerare, quattro schemi regolatori differenti, guardate che è abbastanza innovativo per un regolatore differenziare, come se fossero quattro regolazioni diverse, in ragione di parametri oggettivi, che cercano di raggiungere, in funzione della situazione locale e idrica, due obiettivi che sono, come dire, scontati da dirsi. Il primo è promuovere gli investimenti in un settore che è veramente alla canna di gas, se non si trattasse del mazzo. Sì, perché sono una testa e risposta. Esatto, e quindi in un settore veramente critico, caratterizzato da vent'anni, di pochi investimenti, soprattutto nella decorazione. Sapete che lì ci stanno, alcune sono arrivate, ci stanno per arrivare, delle multe di frazioni europee per la qualità della regolazione. Quindi, primo obiettivo, rilanciare gli investimenti in un tempo di crisi, quindi, come dire, un dilemma pazzesco da un punto di vista economico, e secondo, elevare la qualità del servizio verso gli investimenti del settore. Chiudo, se posso, ancora un minuto. Sì, non ho un paio di domande che facciamo. Esatto, non mi mollate prima di un paio di domande. Chiudo con un altro esempio, più sul lato enforcement, che sta particolarmente fuori. Noi, con l'amico Giolandi di Torzelle e con il suo collegio, abbiamo fatto delle prove concrete di collaborazione. Credo ci siamo abbastanza riusciti, nel senso che abbiamo sviluppato assieme un protocollo di collaborazione, che avrà anche degli addenda successivi nelle singole materie, e che cerca appunto di accordarsi, si parlava di accordo, con il suo massaggio sui modi di espletare la tutela del consumatore, in modo tale da non sovrapporsi, ma neanche da lasciare dei buchi di tutela del consumatore. Quindi, credo che questo accordo firmato di settembre potrà avere anche delle ulteriori cose. Se volevo segnalare un esempio che all'associazione dei consumatori è chiarissimo, quello dei contratti non richiesti nell'evento. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo fatto come regolatore una disciplina l'anno scorso, a giugno dell'anno scorso, la famosa delibera 153 del 2012, che si pone prima, cioè a monte, rispetto all'accertamento del contratto non richiesto, che ovviamente è una fattispecie che rientra nel codice del consumo, adesso c'è anche il visto e il ricepimento della direttiva di consumer rights, quindi è assolutamente una fattispecie del contratto non richiesto che può servire le vie classiche, quindi il trattamento attraverso il codice di consumo, quindi la competenza dell'antitrust, o addirittura anche quella del giudice civile, nel caso in cui ci vogliono... Però volevo qualificare e valorizzare, se possibile, questa disciplina regolatoria, che è la 153, che si pone prima dell'accertamento del contratto non richiesto. Quindi lasciando ritorno alla facoltà di adire le vie classiche che ho citato prima. Che cos'è questa disciplina? È una disciplina regolatoria, innanzitutto volontaria, cioè l'operatore energetico può aderire, hanno diritto quasi tutti, a questo protocollo di ripristino. Che cosa succede? Il consumatore che si sente in qualche modo soggetto a un contratto non voluto, non richiesto, entro certi tempi, che non sono i 10 giorni del diritto di ripensamento classico, ma sono 30 giorni a partire da una serie di iniziative, anche di circostanze, che sono messe in campo dalla 153 stessa, perché si può parlare di un web con letter, una telefonata di conferma, eccetera, 30 giorni a partire da questo start-up in cui il consumatore può dire questo contratto per me non è voluto, unilateralmente. Il venditore che si è, come dire, iscritto, che ha accettato, aderito a questa procedura può tranquillamente dire, bene, allora andiamo in procedura di ripristino. La procedura di ripristino porta il consumatore allo status quo ante, cioè al momento in cui stava con un altro fornitore, stava nel servizio di tutela. Quindi vedete che nel basket, nel numero di questi contratti trattati dalla 153, ci possono essere sia contratti non richiesti veri, non sono ancora accertabili, diciamo potenzialmente contratti non richiesti, sia un diritto di ripensamento all'allungato, 30 giorni, da parte del cliente. Quindi è una disciplina preventiva, molto preventiva rispetto all'accertamento di un contratto non richiesto. Che cosa succede al cliente finale che entra nella procedura di ripristino? Appunto che viene riportato come se niente fosse successo al momento in cui è entrato, suo malgrado, in questa fattispecie, in questa fattispecie che lui dice di non volere, che sia veramente un contratto non voluto, o meno questo... Adesso i operatori che viene mentre registrano le telefonate, non propongono dei servizi. Sì, si registrano le telefonate, ma poi non devono mandare la welcome letter, cioè informare i clienti che ce ne devono passare certi tempi. La cosa che volevo citare è questa disciplina 153, che non è, passa sotto il nickname di contratto non richiesti, ma è, come dire, preliminare, è cercare di sfoltire, di scremare la fase, diciamo, di accertamento vero del contratto non richiesto, è, a nostro modo di vedere, addirittura compatibile con la direttiva Consumer Rights, la quale dice, in un certo titolo, in un certo forma, che il consumatore che ha un contratto non richiesto, accettato, ha diritto a non pagare alcuna prestazione corrispettiva per quel bene non voluto, per quel servizio non voluto. Esatto, l'irripristino della 153 è anche rispettoso, non si occupa dei contratti non richiesti, ma è rispettoso di questo principio, perché cosa succede? Il consumatore, al consumatore che viene, tra virgolette, ripristinato, cui viene ripristinato lo stato scuante energetico, paga per quei mesi che, come dire, ha utilizzato, in cui ha utilizzato, l'energia elettrica o il gas durante il periodo, tra virgolette, non richiesto, paga gli oneri di rete e la fiscalità come avrebbe pagato in ogni caso, anche se avesse avuto un contratto richiesto, quindi un contratto pacifico, e paga la commodity, quindi il costo del chilomettora, nel servizio di tutela. Qui, la precisazione che chiudo da fare è che il servizio di tutela in Italia, oltre ad essere un controllo di prezzo per i piccoli consumatori, ha anche una natura di servizio di multivistanza, o servizio universale, sicuramente, in altri settori, penso alla telefonia. Quindi, quell'energia che è stata consumata e viene pagata nel periodo di ripristino del contratto potenzialmente non richiesto, è un'energia valorizzata al servizio universale. Quindi, la 153, pur non essendo una disciplina specifica, come dico per l'ultimo di oggi, di trattamento del contratto non richiesto, lasciando antitrust e tutti gli altri attori, compreso il FIDER, completamente liberi di essere abitivi sulla faccenda, è una disciplina che, a livello di principi, non impone la prestazione corrispettiva, perché, l'ho dimenticato di dire prima, il corrispettivo di vendita al renditore non richiesto viene cancellato. Quindi, sostanzialmente, il consumatore paga per i mesi di ripristino il servizio universale, quindi non è assolutamente staccato, o comunque non paga neanche niente, perché in quei mesi ha consumato l'energia, ha tratto beneficio dal servizio, quindi dal sistema, ma il corrispettivo di vendita al venditore non richiesto non viene, come dire, corrispettivo. Quindi questo volevo, come dire, categorizzare, valorizzare un attimo in più questa 153, che alcuni dicono è la disciplina dei contratti richiesti, tratta la minorità, il codice di regolazione, il codice di consul, non è assolutamente vero, è una disciplina preventiva con cui con Giovanni abbiamo anche inserito un capitolo speciale nel nostro protocollo di intesa e quindi funziona, credo, in maniera buona. Purtroppo devo salutarla, perché naturalmente è stato solo il primo degli interventi, però non è stato un'esperienza, ma non è stato un'esperienza, non è stato un'esperienza, non è stato un'esperienza di fare la famosa marcia indietro, appunto per riflessionare la condizione originaria, perché il tema, dottor Bordoni e Bordoni, che lo sa, è quello che è proprio di allegare la parte dei consumatori che sono spesso appunto loro malgrado convolti in queste situazioni appunto anche spiacevoli e poi non si sa appunto come potersi difendere, però te lo sa, perché il vostro sportello e il consumatore sono molto affollato, molto attivo, è un'ultima indicazione, magari se non potete rendere questa rete indica nazionale più appetibile agli investimenti, magari forse un accordo ha fatto con l'autorità dei contratti uffici per la recuperazione. Bene, grazie dottor Bordoni, e grazie a tutti.